Siamo qui con Alessandro Petacchi in attesa di ricevere la maglia verde, la penultima maglia verde che verrà assegnata oggi, l'ultima, sarà assegnata domani quella più importante, c'è Campiresi di Parigi, allora chiediamo Alessandro come stai e che sensazioni hai per la volata di domani, la più importante? Sicuramente anche domani sarà una volata importante perché siamo ancora tutti molto vicini, non devo uscire dai primi 8, soprattutto se vince la Cavendish perché sennò rischio di perdere la maglia, quindi devo anche domani fare una bella volata, impegnarmi al massimo e poi devo stare attento anche allo show, visto che è un arrivo difficile, sicuramente è un arrivo di potenza, che si arriva assolutamente stancato, sarà una volata complicata anche domani, ma non bisogna sbagliare per farla bene. Tu in questi giorni hai avuto un po' di bronchite, come vai la salute? Ho fatto per il momento tre giorni antibiotici, un po' di agiosol, però mi sono un pochino meglio, è chiaro che mi ha un pochino debilitato, però siamo anche a fine tour, c'è molta stanchezza, sto cercando di raschiare le ultime forze che ne sono rimaste e devo fare perché stanno andando bene adesso. Allora ti lasciamo andare alla premiazione sperando che sia la penultima. Speriamo sia la penultima o non l'ultima.